Su tutti i televisori di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania oggi compare il nuovo logo di Teledeon. Ne parliamo con il direttore responsabile della nostra emittente, padre Francesco Mazzotta. Grazie per essere con noi. Padre Francesco, cosa cambia? Quello che si vorrebbe mettere in evidenza è la parte fondamentale, il cuore, che poi è il simbolo in un qualche modo della congregazione del Sacro Cuore di Gesù che è proprietaria di Teledeon. E quindi vorremmo di fatto passare pian pianino dalla parte scritta all'immagine in un qualche modo che ci vorrebbe caratterizzare, cioè in modo tale che uno vede quel cuore e subito pensa a Teledeon. Sì, un po' come succede anche per i grandi marchi nazionali e internazionali, il logo è quello che va ad identificare esattamente il messaggio che si vuole lanciare. Sì, infatti se voi fate caso, per anni si è messa Teledeon un po' sotto la TV del cuore, quindi si doveva sottolineare questa espressione. Noi vogliamo mettere il cuore in evidenza che identifichi la televisione, quindi diciamo vogliamo cambiare un po' la cosa sia appunto perché c'è dietro una congregazione che è la congregazione del Sacro Cuore di Gesù, quindi quel cuore richiama questo fatto, sia perché effettivamente vogliamo anche idealmente caratterizzare il nostro lavoro, cioè siamo persone che lavorano e fanno le cose con il cuore e non perché bisogna farlo. Ecco, mentre sul canale 18 per esempio in Puglia, accanto al logo compare anche una scritta, un 518, che cos'è? Allora abbiamo messo, abbiamo anche oltre ad aver cambiato il logo, abbiamo anche cercato di differenziare i messaggi per la Campania e la Calabria da un lato e la Puglia e la Basilicata dall'altro. In Puglia e la Basilicata noi abbiamo il 18 e il 518 e il 518 il canale in HD. Ce l'hanno in pochissimo, ormai i nazionali hanno preso ad avere il canale in HD, Teledeon è un canale in HD di tutto rispetto, sia in Puglia che in parte della Basilicata, dove Teledeon è presente e quindi come fanno anche i nazionali, noi in Puglia e Basilicata mettiamo sul canale 18, andate sul 518, perché vogliamo spingere i nostri telespettatori anche a gustare i nostri programmi da un punto di vista della qualità audio-video. Della definizione dell'immagine e dell'audio. Che in questo momento è paragonabile ai canali Rai. Ma non è soltanto l'unica novità tecnologica di Teledeon in questi giorni, infatti qualcuno ha già fatto caso che negli ultimi giorni, cliccando sul tasto del telecomando che individua la I delle informazioni, appare una scritta. Che cos'è questo sistema? Sì, anche qua il sistema funziona soltanto per la Calabria, scusate, per la Puglia e per la Basilicata, dove abbiamo la rete di nostra proprietà, e il sistema che gli addetti ai lavori conoscono come PG, il sistema delle informazioni, che è la guida elettronica dei programmi, infatti molti ci hanno sempre chiesto, ma come faccio a sapere a che ora va in onda il programma, eccetera. Noi abbiamo sempre detto, vabbè, vai su internet. I grandi network, quelli nazionali, Sky, eccetera, hanno anche le informative da tasso di telecomando. Da qualche giorno, e quindi diciamo da oggi ufficialmente, in Puglia, in Basilicata, anche Teledion si è dotata di questo strumento, quindi vogliamo in questo modo rendere più fruibile la nostra programmazione ai telespettatori. Praticamente, cliccando il tasto I o info sul telecomando, si ha notizia del programma che è in corso, l'orario in cui finisce, il programma successivo, ma c'è anche, per i televisori che lo supportano, c'è anche la guida giornaliera e elettronica, per cui potete andare a guardare nella fascia di orario che vi interessa, il programma e i programmi che vanno in onda. A proposito di TV del cuore, con il cuore questa emittente sta facendo uno sforzo straordinario per mettere su la rete che è stata concessa dal Ministero appena a novembre scorso e a che punto siamo? Siamo abbastanza avanti, siamo quasi in dirittura d'arrivo, chiaramente siamo in fase di aggiustamenti soprattutto sulla zona nord della Puglia, quindi dovete scusarci per le interruzioni oppure per le zone che ancora sono scoperte, stiamo lavorando per coprire l'intera regione al meglio possibile. La zona ormai centro-sud della Puglia è sostanzialmente ultimata e dalle misure che abbiamo effettuato abbiamo una copertura, è un segnale che Teledeon non ha mai avuto, quindi chi lo vede o chi ci segue si sarà accorto anche della qualità, soprattutto se si va su 518 appunto dell'HD, si sarà accorto della qualità del servizio ormai che offriamo che è paragonabile al servizio delle nazionali. Bene fare anche una piccola precisazione che non vuole essere polemica, in alcune zone il nostro segnale non è ancora ottimale perché c'è tutto un apparato burocratico che sembra rimare contro, nel senso che abbiamo interferenze tra competenze dei comuni, delle province, delle regioni e dello Stato che tra di loro non si mettono d'accordo. Sì, perché purtroppo la burocrazia italiana è quella che è, lo sappiamo, c'è la competenza di Tizio, la competenza di Caio, per cui qui c'è un'autorizzazione ministeriale che ti dice, ti obbliga anzi ad accendere entro tutto tempo l'impianto X nel posto Y, autorizzandolo tra l'altro, poi ti ritrovi che ne so il comune perché ha delle cose che perde un sacco di tempo, l'ARPA che ci deve mettere la sua, insomma diventa complicato, in più ci stanno anche delle zone dove si possono creare delle interferenze con le telefoniche e quindi con con Win, mi pare che è quella che è più vicina al canale 60 e per cui queste cose creano poi delle situazioni che è difficile, insomma, da risolvere in tempi brevi, però ci stiamo lavorando e fino adesso sostanzialmente grandi problemi non ne abbiamo avuto. Invitiamo allora tutti a eventualmente risintonizzare il proprio televisore nel caso in cui dovesse per qualunque motivo sparire il nostro segnale per qualche ora, è bene effettuare una risintonizzazione perché siamo sempre presenti, stiamo lavorando per rendere sempre migliore, sempre più funzionale il nostro servizio. E ricordiamo anche che abbiamo un ottimo servizio ormai già da tempo, già da più di un anno, un ottimo servizio streaming fruibile sulle smart tv, anche su iPhone, su Android, quindi abbiamo l'app, l'app di Teledeon che si può scaricare gratuitamente, quindi in realtà Teledeon è fruibile a vari livelli, in vari modi e devo dire che anche la parte internet ci sta dando grandi soddisfazioni, vuol dire che effettivamente il mondo della televisione sta cambiando, ho letto l'altro giorno che anche la RAI sta cercando di investire ormai sui canali internet, sui social eccetera e noi su questo già stiamo scommettendo da diverso tempo. Allora ringraziamo padre Francesco Mazzotta, direttore responsabile di Teledeon per questa chiacchierata che ci fa entrare in confidenza con il logo che è alle nostre spalle in questo momento e che a brevissimo entro la giornata di oggi dovrà comparire su tutti i televisori come abbiamo detto di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania.